Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho l'immenso piacere quest'oggi di ospitare una mia ex collega di Short Track plurio-olimpionica Barbara Baldissera. Ciao Katia e ciao a tutti. Ciao Barbara, grazie davvero per aver accettato il mio invito, davvero un grande piacere. Insomma non ci si vede molto spesso però l'amicizia rimane anche perché abbiamo pattinato una vita assieme. Short Track, la tua carriera da sportiva, dopodiché hai cambiato letteralmente, hai voltato letteralmente pagina, ti sei data ad altro ma questo lo vedremo dopo. Incominciamo dalla tua carriera di pattinatrice che per la verità preannuncio non è stata longeva, insomma sul clou dei tuoi risultati della tua carriera hai smesso. Però partiamo dall'inizio Barbara, partiamo da quando eri piccolina. Hai cominciato a pattinare sin da piccola oppure praticavi altri sport? Ho iniziato da piccola a piccola, da sei anni, cinque o sei anni ho iniziato a pattinare, facevo anche altri sport nel frattempo perché comunque è giusto provare sempre un po' di tutto. Patinaggio comunque è quello che mi ha preso subito il cuore, ho iniziato a fare le prime gare, poi da piccola vedi che vinci, vedi che le cose vanno bene e quindi ho proseguito lungo questo percorso. C'era già la pala a ghiaccio, l'attuale di via Manzoni oppure patinavi all'oratorio come i primi? No, io forse sono stata una delle prime che ho iniziato al pala a ghiaccio, sì, sì, sì. All'oratorio no, non ho mai patinato, ho iniziato subito dal pala a ghiaccio, sì, sì, sì. Le tue prime gare, la convocazione nella squadra nazionale Juniors avvenne in età precoce? In età molto giovane, sì, iniziai a 12 anni in pista lunga perché ai tempi facevamo sia gare di pista lunga che di short track. Ho iniziato, sono entrata in squadra nazionale Juniors di pista lunga dove ho fatto i miei primi mondiali a Juniors a Varsavia, l'anno dei 13 anni, a Varsavia, in Polonia, ho fatto i miei primi campionati mondiali Juniors. Molto giovane. Ero molto giovane, sì. Da lì poi ho proseguito però più nello short track, ho dovuto scegliere, è arrivato comunque il momento di scegliere e visto che qui da noi di piste da pista lunga non ce ne sono, ho optato per lo short track, anche se forse la pista lunga mi sarebbe piaciuta molto di più. Pensando ai tempi, vedendo adesso sicuramente lo sport di squadra è quello che mi ha più coinvolto, mi ha dato la possibilità anche di vincere sicuramente di più. Certo. Pista lunga che ricordiamolo di nuovo a Bormeo non c'era una pista di 400 metri, un oval al ghiacciato, quindi come vi allenavate? Ci allenavamo con i pattini della pista lunga, che sono diversi comunque da quelli di short track, all'interno del palazzo del ghiaccio di Bormeo, girando un pochettino più all'esterno, rimanendo vicini alle balaustre, per cui era anche abbastanza pericoloso, possiamo dire. Ci allenavamo per quel poco che riuscivamo, ecco. Quindi praticamente un'altra disciplina, un po' come nello sci allenarsi per il gigante facendo slalom o viceversa, perché non si assomigliano proprio molto. Però, mi dicevi, i risultati arrivavano, eri più una sprinter o una da lunghe distanze? Allora, sono sempre stata una sprinter, sì, la lunga distanza non mi è mai piaciuta. Preferisco le gare corte, veloci, potenti, eccetera, sì. E quello l'ho portato poi anche nello short track, che erano comunque le discipline che prediligevo, erano quelle corte, sì, sicuramente. Sprinter, dicevamo, tanto che nel tuo palmarès si registra anche un record del mondo juniores sui 500 metri, insomma, la dice lunga. Sì, a un campionato del mondo juniores ho detenuto per un po' di settimane, perché poi è stato battuto presto, il record del mondo juniores, sì. Qual era il tuo punto di forza? Io lo so. Beh, sicuramente la partenza, la partenza è quella che ti avvantaggia comunque tanto sulla prova, all'essere già davanti in una distanza così breve di 4 giri e mezzo sicuramente avvantaggia molto. Devi essere molto più forte di chi ti sta davanti, perché hai poco tempo per riuscire a sorpassare, insomma, l'avversario, per cui sicuramente la partenza e la potenza, il riuscire a mantenere la velocità negli ultimi giri è sicuramente il punto di forza. Certo. Sicuramente avevi tanta forza esplosiva e questo era un dato di fatto, ma si registrano anche i tuoi primi, il primo mezzo giro di partenza, così come il successivo uno, non mezzo, due giri erano veramente veloci, veloci. Barbara, poi per te i campionati del mondo juniores di seguito. Campionati del mondo juniores anche nello short track, con buoni risultati. Ai miei tempi la staffetta non era ancora presente nei campionati juniores ai mondiali, e quindi lì non abbiamo mai ottenuto risultati particolari, però qualche... adesso i ricordi sono un po' obfuscati dall'età, però qualche secondo terzo posto c'è stato, sì. Sì, qualche medaglia mondiale in juniores la sei portata a casa. Subito l'ingresso nazionale maggiore, insomma, hai bruciato le tappe. Sì, sono entrata, ecco magari rispetto a tanti giovani di adesso, molto presto, a 14-15 anni ho cominciato a fare le prime gare a livello nazionale nel gruppo senior, non solo juniores, e da lì è quindi poi iniziata la mia carriera con le mie colleghe, inizialmente appunto tutte di Bormio, eravamo le quattro stelline di Bormio, e da lì poi ho proseguito, non per tanti anni, perché ho un po' varie problematiche all'interno del gruppo e poi l'idea comunque di proseguire la scuola, che era una cosa a cui tenevo veramente tanto, mi hanno poi fatto smettere, ecco. Nel 94? Con dispiacere. Sì, perché in fondo avevi quanti anni? Avevo vent'anni. Veramente, una carriera, anche perché sì, era il clou della tua carriera. 22 anni, 20 anni. Hai rimorsi? E poi torniamo di nuovo indietro all'Olimpia. Allora, sì, diciamo di sì. Forse non ho avuto a fianco delle persone che mi hanno spinto a proseguire con carattere e con forza, ecco, sicuramente un po' mi sono mancate queste figure. E a ripensarci adesso sì, pare che rimpianti nel rivedere poi anche le ragazze vincere le medaglie, anche all'Olimpiadi, piuttosto che ai mondiali, agli europei, sicuramente ti lascia un po' di dispiacere, perché sicuramente altri 5, 6, 7, 10 anni avrei potuto magari farli. Certo, a 20 anni si arriva tranquillamente a 30 nello short track. Ricomincia, fai i mondiali master. Potrei ricominciare, perché no? Dai, scherzavo Barbara, però chissà mai. Se ricominci anche tu sì. Allora facciamo la staffetta a due. Perfetto. Le tue prime Olimpiadi furono quelle di? Le prime Olimpiadi furono a Lillehammer, nel lontano, lontano 94, quindi avevo 16 anni ed ero forse l'atleta più giovane italiana, credo. Sì, di tutto, ma lo ricordo, di tutto il contingente italiano. In tutto il contingente italiano, ero l'atleta più giovane, alle prime armi, quindi era da poco che comunque partecipavo a gare di una certa importanza, quindi a livello mondiale, e mi sono ritrovata all'interno di uno stadio pieno di gente, in mezzo a tanta gente, ed è stata comunque una bellissima esperienza. Sicuramente ho vissuto forse meglio la seconda Olimpiadi in cui ho partecipato, perché è un po' più preparata, un po' emotivamente più pronta e anche fisicamente più pronta. Però è stata comunque una bellissima esperienza, come prima Olimpiadi a quell'età lì, è stata una bella esperienza. Anche perché comunque ottenemmo un quarto posto in staffetta, quindi le emozioni della presenza, anche e soprattutto quelle agonistiche. Medaglia di legno. Sicuramente, la medaglia di legno. Ma forse il ramarico più grosso è stato le Olimpiadi di Nagano, 98, 4 anni dopo, addirittura non partecipassi, non partecipammo come staffetta. Purtroppo nelle qualificazioni abbiamo subito una caduta e quindi non abbiamo avuto la possibilità quindi poi di partecipare alle Olimpiadi di Nagano con la staffetta. Sì, sicuramente è forse uno dei momenti più tristi, più difficili. Però comunque sì, abbiamo avuto, parlo per tutte e due, abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni in altri momenti. Sì, ricordiamolo, la vittoria del Mondiale del 1996 a Denag, a Laia. Nel 1996 abbiamo partecipato ai campionati mondiali dove abbiamo vinto la staffetta facendo il record del mondo. Forse è la prima volta nella storia dove sia la squadra femminile che la squadra maschile ha raggiunto questo risultato, quindi la medaglia d'oro con il record del mondo. Ripensando a quei momenti è stata l'emozione grandissima della vittoria che sicuramente non dimenticherò mai. E il pensiero dei giorni prima quando vedevamo le altre squadre allenarsi e vedevamo che giravano come dei missili, insomma, sembravano dei mostri e alla fine i mostri più grandi siamo stati noi. Sì, perché comunque fu una vittoria ottenuta sul campo, non ci furono squalifiche, non ci furono cadute, battemmo le blasonate coreane e cinesi col Canada. Insomma, le squadre erano sempre quelle, però ottenemmo veramente un gran risultato con il record del mondo, in più la particolarità di questa staffetta tutta bormina. Infatti, sì. Quattro ragazze tutte di Bormio, sicuramente il fatto di essere tutte dello stesso posto chiaramente crea un affiatamento e un lavoro di squadra sicuramente quasi perfetto, diciamo, e questo ci ha sicuramente portato a ottenere questo grandioso risultato. Chi erano, vuoi ricordare chi erano le compagne oltre alla sottoscritta? A parte noi c'era Marinella Canclini e Mara Urbani. Ricordiamo anche la riserva, che era la quinta ragazza che è rimasta a farci il tifo sulle balaustre, era Marta Capurso. Gli allenatori invece, lo ricordo io, erano Stelio Conti ed Armando Rastelli, anche lui l'allenatore di Le Prese e Stanziato a Bormio. una carriera, quindi nel 96, lanciata al massimo, Barbara. Fino alla 98 con le Olimpiadi, le speranze di una medaglia olimpica c'erano. E come? Purtroppo sfumate ancora prima di partecipare a Nagano, in quanto l'hai accenato la staffetta, non si qualificò a queste Olimpiadi del 98, però poi ancora due anni di carriera. Sì, ho proseguito poi ancora due anni, dove già però cominciavo a sentire le prime fatiche, ecco, di comunque una carriera iniziata forse anche presto, e quindi anche un po' la fatica degli allenamenti, dell'idea comunque di proseguire con la scuola, eccetera. Sono stati due anni un po' difficili, e quindi poi nel 2000 la decisione di interrompere la mia carriera e proseguire con quegli studi, che poi sono comunque rimasti all'interno dell'ambito sportivo, diciamo. Scuola superiore? Frequentavi? Ho frequentato la scuola alberghiera, e poi ho proseguito con scienze motorie all'università. Ho fatto la laurea di scienze motorie, ho proseguito poi nell'ambito della massoterapia, e quindi adesso insegno a scuola all'elementare con un progetto nazionale del CONI, e ho aperto da poco uno studio di massoterapia. Ah beh, questa è una news assoluta, ti conoscevamo sì come fisioterapista, e invece ti sei messa in proprio, bene, beh, una carriera che quindi è culminata con questo sbocco professionale, che sarà appunto la tua professione a vita, chi lo sa, a meno che non torni sempre a patinare, Barbara. No, quasi quasi, rimango così adesso. Quindi sì, sempre nell'ambito sportivo, sempre nell'ambito della cura del corpo e quant'altro. La svolgi a casa? No. Allora, ho aperto questo centro da qualche settimana a isolaccia, vicino a casa, quindi molto vicino a casa, e invece per quanto riguarda la scuola mi occupo di tutto il plesso di Bormio, quindi dalla prima alla quinta elementare, sia Bormio, Val di Dentro e Val di Sotto, che sono le scuole che hanno aderito a questo progetto. Insegno educazione fisica? Insegno educazione motoria nelle scuole. Quindi riprendiamo un attimino, diamo una mano, diciamo, alle insegnanti che purtroppo magari hanno poche conoscenze nell'educazione motoria, in quanto si è il CONI in primis, il CIP e il MIUR hanno visto che è necessario, c'è bisogno di riprendere un po' in mano il proprio corpo, le proprie nozioni motorie, le proprie capacità motorie, per poi riportarle nello sport, perché probabilmente il fatto che mancano adesso tanti sportivi è proprio perché non si aiutano i bambini già nell'età scolastica, nei primi anni. Nell'età fondamentale, come li trovi questi bambini a livello fisico, a livello motorio? Molto, molto, molto legati, bloccati, con tante difficoltà, tanta paura anche nell'affrontare magari esercizi molto semplici, tante volte. Gli manca proprio lo spirito anche di avventura. Una volta magari per noi c'è la possibilità di uscire, andare a rampicarsi sugli alberi, quindi acquisire le capacità motorie in modo molto naturale, molto semplice. Adesso, nonostante magari fanno tanti sport, ma mancano proprio le basi, c'è proprio una mancanza di basi motorie, di capacità motorie, di apprendimento motorio, che ecco, stiamo cercando di inculcare. Ragazzini che se però stimolati rispondono alla grande, insomma, si figli della tecnologia finché vogliamo, però il classico gioco della palla piuttosto che... Quello sicuramente, sì, rispondono e anche con entusiasmo, perché probabilmente sono proprio cose che non sono più abituati a fare. E quindi ecco, sicuramente anche riuscire a trasmettere l'entusiasmo, la voglia di fare sport, di fare attività, eccetera, è un fattore importante nella loro crescita motoria. Certo, quindi è un compito anche un po' da parte nostra, genitori, di motivare i nostri figli, perché ci lamentiamo, li vediamo spesso seduti sul divano con ogni forma di tecnologia, ma forse non siamo capaci nemmeno noi di incentivarli, di farli fare una passeggiata, di organizzare qualcosa assieme. Insomma, un pochettino ci fa comodo anche noi questa tecnologia e su questo dovremmo magari riflettere un po'. Abbiamo parlato di genitori, Barbara, sei anche mamma. Sì, sono mamma di un bambino di due anni, due anni appena compiuti a dicembre, si chiama Davide e sicuramente ha preso dai genitori. Molto attivo anche lui e molto atletico e molto chiacchierone. Sì, bene, beh, questa è la gioia, è la medaglia sportiva mancata, anzi, di più ovviamente. Sicuramente, sicuramente. Sei conosciuta anche qui a Livigno perché insegni pallavolo alle ragazzine. Sì, sono due anni che grazie allo Sporting Club di Livigno mi è stata offerta la possibilità, visto che ho il patentito di allenatore nella pallavolo, di dare, insomma, i primi rudimenti della pallavolo anche ai ragazzi delle elementari e delle medie di Livigno. Abbiamo iniziato lo scorso anno con un percorso da prima di avviamento alla pallavolo e poi aggregativo, quindi un percorso un po' più lungo. E anche quest'anno abbiamo ripetuto con ottime soddisfazioni e un ottimo numero di partecipanti, sì. Bene, bene, grazie a nome di tutta la comunità. Barbara, che cosa fai da grande? Oh, mamma mia. Una domanda che tutti i giorni mi chiedo, mi faccio. Beh, sicuramente quello che ti può insegnare lo sport e che sicuramente riesci a trasmettere poi nella vita è un po' quello che sto facendo adesso e quindi quello che farò da grande, penso, il mio futuro. Quindi rimanere nell'ambito sportivo, rimanere il più possibile con i bambini perché davvero c'è bisogno di ricreare entusiasmo, ricreare movimento, eccetera. E poi porterò sicuramente avanti la cosa più importante che mi dà molta soddisfazione che è proprio la mia attività di massoterapista. Ti ringrazio, grazie davvero Barbara, grazie. Grazie a te. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione. Vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie.